Ciao a tutti ragazzi, io sono Corinan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento il board game di Kingdom Hearts, una saga videoludica dipanata in vari anni e in varie console ed approdata finalmente in versione HD anche per PC, piccola parentesi, acquistabile sull'Epic Store. Saga che ha fatto la felicità di tantissimi fan dei GDR, degli action game, ma soprattutto dei prodotti della Disney. E questa volta lo vediamo in versione Talisman, Talisman gioco della Games Workshop, in questa edizione italiana a cura di Asmo d'Italia che io ringrazio di cuore per la copia fornita e che è diventato un sistema universale. E infatti stanno facendo Talisman Batman, o meglio Gotham City, Talisman Harry Potter, Talisman Kingdom Hearts, hanno fatto anche la variante Warhammer 40.000 che si chiama Relic ed è veramente, veramente uno spettacolo per tutti gli amanti di Talisman e non solo. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Talisman, in questa edizione italiana a cura di Asmo d'Italia, è un gioco che ho già presentato qualche video fa, se vi ricordate, dove ho fatto l'unboxing. Perché vi ricordo che ora dei migliori giochi che mi arrivano faccio sempre non un video ma due. Uno dedicato completamente all'unboxing dettagliato e uno dedicato poi al cosa ne penso. Allora, penso che ci sia bisogno di poche presentazioni per Talisman. Gioco bellissimo e spettacolare, se vi ricordate, l'ho anche in edizione Giochi Uniti qua dietro. Le lande montuose, anche l'espansione, il metitore e quant'altro. È un gioco molto bello perché va avanti dagli anni 80 ed è stato un gioco che ha seguito un po' di pari passo, ma per certi versi l'ha anche preceduto. Il buon HeroQuest, che lo sapete, io considero il miglior board game e gioco da tavolo, ma è creato, non a caso, sia Talisman che HeroQuest. Ci hanno delle community a livello mondiale che se le sognano in tanti, veramente. E tanta gente ha creato anche regole aggiuntive, opzionali, home rules, che ce n'è davvero per tutti i gusti, ma soprattutto per giocarci una vita intera. Talisman è un gioco veloce, è fondamentalmente, lo chiamano in gergo per ridere, il gioco del Loca Fantasy, dove si tira un dado, si muove. La miniatura, il nostro eroe, Ava in senso orario o in senso anti-orario, ovviamente una volta presa una strada non si può fare avanti e indietro, ma bisogna seguirla, si finisce in una casella, si legge cosa c'è scritto sulla casella, se nella casella c'è un incontro, si fa quell'incontro, se nella casella c'è un altro giocatore, visto che Talisman è un gioco competitivo, non PvP puro. Qui si punta a vincere la partita, ma non facendo penda all'avversario, arrivando per primo al finale, che sarebbe poi la zona centrale, la zona interna. Però si può anche cercare di sabotare, perché finendo in una casella con un altro giocatore, lo possiamo anche attaccare. Nel caso il nostro personaggio sia un personaggio che combatte con la forza, caratteristica forza, utilizzeremo la forza, se invece utilizziamo il potenziale magico, utilizzeremo la magia, il mana e quello che è il nostro valore. Quindi è un gioco fondamentalmente facile, si tira a dado da 6, si muove la miniatura decidendo prima in senso orario o anti-orario dove vogliamo andare, anche montando le caselle per vedere dove andremo a finire, un minimo di tattica ce l'ha, e si muove la pedina, si finisce in quella casella, se c'è un incontro si risolve l'incontro, quindi delle carte mob, mostri si risolve l'incontro, se no si risolve quello che c'è scritto direttamente sul tabellone. Dimenticatevi di andare a leggere il manuale, sono finito nel cimitero, vediamo un po' cosa succede, arrivano non morti? No, ce l'ha scritto direttamente sul tabellone di gioco, quindi semplicemente guardi, t'affacci, leggi cosa c'è scritto e applichi. Saranno eventi, saranno incontri o saranno a volte anche bonus. Abbiamo la zona esterna, la zona centrale e la zona interna. Nella zona esterna possiamo tirare il dado da 6 e ci si muove come vogliamo. Nella zona centrale da cui si accede soltanto in un modo preciso, come vi ho detto tramite un'aeronave, come vi ho detto anche durante l'unboxing, si tira sempre il dado da 6 e ci si muove della casella, delle caselle che escono sul dado da 6. Nella zona ultima, che è vero quella interna, non si tira più il dado, ma ci si muove semplicemente di una casella, avanti o indietro, non è un problema. Si può tornare anche sulla casella precedente, però ci si muove di una casella alla volta fino ad arrivare alla casella centrale ultima, dove ci sarà da fare una prova finale e il giocatore che la vince ha vinto la partita e quindi praticamente è il campione di questa partita. Ho visto gente sul talisman inesperta rushare fino alla fine, poi arriva in fondo e gli toccava ritornare indietro per ritornare nelle zone precedenti per buildare il personaggio. Quindi lo dovete vedere come la classica avventura di Dungeon & Dragons, dove si parte dal livello 1 e un po' è andata a combattere il drago. Dovrai arrivare almeno al livello 10 prima di provare a averci una chance e soprattutto a competere con gli altri giocatori, che mano a mano diventano sempre più forti e se ti beccano per strada ti vanno a ammazzolare. Quindi ha una componente logistica molto 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 importante e anche tanto, secondo me, più di Iro. Questo è infatti Iro, questo è un gioco più d'azione, che mano a mano passi le partite e diventi più forte, e qui diventi più forte nella partita stessa. Ricorda un po' un MOBA. E nella partita dopo viene tutto quanto azzerato. In conclusione lo consiglio a tutti, non soltanto agli amanti del fantasy e agli amanti di talisman, ragazzi a tutti, perché in questa versione Kingdom Hearts, con i personaggi della Disney, Pippo, Retopolino, Paperino e anche Sora, i personaggi famosi di Kingdom Hearts, è uno spettacolo assurdo ed è per tutti i palati facile. Secondo me ci potete mettere anche un ragazzino di 6, 7, 8 anni, gli spiegate un giro, due giri e capirà assolutamente tutto, perché è molto molto semplice. Come regolamento ha quattro regole in croce, ragazzi e talisman non cambia. Niente, cambiano le carte, cambia l'ambientazione, cambia. Ma è talisman pari. Cioè, regolamento, leggete una pagina, ma lo potete esattare. Cioè, vi basta fare un giro e ve lo spiega qualcuno, è fatta. Quindi, componente bellissima per un zeppo di miniature ed è talisman. Se vi è piaciuto talisman, vi piacerà anche questo. Se adorate Kingdom Hearts, vi piacerà il triplo. Io ringrazio ancora una volta Asmod Italia per avermi offerto questa copia per la recensione. Se lo volete ordinare, sempre in tutti i video, primo link in descrizione, in sua impressione, dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor, al miglior prezzo sul mercato. Se lo trovate in lista, ma è finito o non lo trovate, scrivete al supporto e fate presente che arrivate dal canale di Corridan. Il proprietario farà il possibile per trovarvelo al miglior prezzo sul mercato, anche se l'ha finito, oppure se non è presente in lista. Vi ricordo che al momento ci sono gli sconti fino al 75%, fino all'eserimento scorte. Nel caso gli sconti fossero finiti, usate sempre il codice discount Corridan7, tutto scritto maiuscolo al momento dell'acquisto, cliccate codice discount e mettete Corridan7, per avere uno sconto del 7% e per spese superiori ai 79€, spese postali gratuite in tutta Europa. Quindi non spendete niente, in 48 ore vi arriva a casa. Ordinate, giorno dopo, massimo quello dopo ancora, 48 ore, vi arriva a casa. Quindi il gioco libreria semola è sempre sinonimo di qualità, ma soprattutto servizio impeccabile, professionale ed eccellente, soprattutto velocissimo. Grazie ancora una volta ad Asmod Italia e ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao, alla prossima!